Il caso Amianto in via Malpighi entra in consiglio comunale. È stata infatti discussa dall'assise cittadina la petizione popolare sottoscritta da 4.000 cittadini che chiede al sindaco di impegnarsi per la rimozione dell'Amianto dalle case popolari di via Malpighi e di predisporre un piano di monitoraggio del tetto. Per quest'ultimo il comune dovrebbe avvalersi di un esperto che dia una valutazione tecnica dello stato di conservazione della suddetta copertura, una valutazione poi da estendere ad ogni altra copertura in cemento e amianto presente nel territorio. Tutto ciò come proprio ideutico a un intervento complessivo di bonifica per le case popolari. Un voto unanime dei 24 presenti in consiglio comunale, presenti a Palazzo Cavallo, anche il Sunia, il sindacato degli inquilini e del comitato di via Malpighi. Damani discutono la nostra petizione quindi siamo qui come un presidio a sostegno e noi aspettiamo che venga deciso quello che il sindaco ha annunciato il 17 che si rimuove il tetto di via Malpighi. La rimozione del tetto ma ci sono anche altre questioni all'interno della vostra petizione che riguardano sempre la questione Amianto? Sì, la petizione riguarda anche per quanto riguarda il monitoraggio all'interno delle nostre strutture essenzialmente pubbliche, quindi le scuole, gli asili, quello che sono le strutture pubbliche per quanto riguarda il monitoraggio sullo stato di conservazione dell'amianto che abbiamo in città. E può allarmare anche il cartone amianto all'interno delle pareti del caseggiato popolare di via Malpighi? Sì, per quanto riguarda l'amianto interno noi abbiamo una relazione dell'Aseg del 2013 che evidenzia questo problema. Abbiamo scritto dieci giorni fa un'ultima lettera alle case popolari chiedendo qual è lo stato dell'arte ad oggi. Quello che si chiede è una risposta concreta in tempi brevi? Sì, è una risposta concreta in tempi più brevi possibili.